E poi, e poi, e poi finirà Tarallucci e Nutella Gli youtuber che ci prendono per il culo E poi, e poi, la prossima volta non sarà Nutella Ma potrebbe essere merda E se ti chiamo ciccione, tu non mi denunciare Se ti chiamo ciccione Ebbene, com'è finita tra Cicciocoso e il suo aggressore? Beh, è finita che hanno fatto pace E quindi niente, e quindi niente denuncia E quindi niente pugni in faccia E quindi voi stronzi, che vi siete scagliati gli uni contro gli altri L'avete presa nel culo Oh, povero ciccio, quanto mi dispiace, è stato bullizzato No, no, povero ragazzo No, no, che ragazzo di merda, ma perché ha fatto sta cosa? È un bullo del cazzo E poi c'è stato anche il video Il video in cui questo ragazzino di 18 anni Praticamente ha subito il lavaggio di cervello E ha detto un sacco di cazzate Che sicuramente non pensa Perché io credo che lui sarà veramente felice Di aver tirato per ben due volte La Nutella in faccia a Cicciocoso Eh, sono cose che capitano Ve l'avevo detto che vi pigliavano per il culo Grazie a tutti